Ho utilizzato il nuovo Poco F5 per ormai più di un mese. Nella recensione di oggi vi spiego perché è uno dei migliori smartphone di fascia media del 2023 e soprattutto capiamo insieme perché è un telefono perfetto per chi cerca un rapporto qualità-prezzo eccellente. Piccole premesse di questa recensione onesta, andiamo veloci su tutta la parte tecnica. Ci sono tantissime recensioni tecniche che sono uscite al day one quindi avrebbe poco senso parlare nuovamente di tutti questi aspetti. Ci concentriamo invece in questo video sull'esperienza d'uso, sull'utilizzo quotidiano e sulla resa del telefono. Andiamo veloce anche già per quanto riguarda la confezione. Dentro la scatola di vendita troviamo cavo per la ricarica, carica batteria veloce da 67W e coverina in silicone trasparente. Ma parliamo del Poco F5, parliamo della sua costruzione e del suo design. Per quanto riguarda l'estetica devo dire che non è un telefono che attira l'attenzione, non ha caratteristiche di design particolari, ma è un telefono sobrio, ben costruito, pulito, con delle linee classiche, bordi squadrati, angoli arrotondati ed una back cover con una trama in fibra di carbonio che comunque è carina. Oltretutto è interamente costruito in plastica, questo potrebbe essere visto come un punto negativo perché tutti vogliamo il vetro e l'alluminio, ma la plastica se è di ottima qualità garantisce un'ottima protezione al telefono e soprattutto ci permette di avere un peso più, ma infatti parliamo di soli 181 grammi che lo rendono super comodo da utilizzare con una mano sola, ha una buona ergonomia e soprattutto tende a non stancare mai nelle fasi di utilizzo prolungato. Quindi il Poco F5 è un telefono sobrio ma ben costruito e devo dire che mi ha soddisfatto anche le certificazioni IP53 che garantisce una resistenza, seppur minima, ad acqua e polvere e ci garantisce quindi una maggiore durata nel tempo del telefono. Un paio di aspetti costruttivi interessanti nella parte superiore c'è un jack audio da 3,5 per collegare le cuffie nella parte inferiore troviamo una porta USB-C sul lato troviamo un sensore per la lettura degli impronti digitali davvero comodo, pratico, veloce e preciso funziona davvero bene e poi soprattutto troviamo qui nella parte alta un sensore di prossimità fisico che funziona perfettamente, quindi nessun problema con l'accensione e lo spegnimento del display durante le chiamate o quando ascoltiamo un messaggio vocale. Parliamo adesso del display che è uno dei punti di forza di questo Poco F5 è uno schermo AMOLED da 6,67 pollici di diagonale risoluzione Full HD Plus da 1080 x 2400 pixel e refresh rate a 120 Hz c'è poi anche la compatibilità con Dolby Vision e l'HDR 10 Plus che ci garantisce lo streaming in alta qualità e in alta definizione lo schermo mi è piaciuto molto, è bello, brillante, ha dei colori ben tarati il refresh rate a 120 Hz lo rende molto fluido, molto piacevole da utilizzare e rende l'esperienza utente particolarmente burrosa, coinvolgente ed è quindi un buon display ha un piccolo difetto legato alla luminosità massima che arriva a 1000 nits bisogna premettere che 1000 nits ha comunque un buon valore e che ci permette di avere una leggibilità eccellente nel 95% dei casi però c'è quel 5% di utilizzo sotto la luce diretta del sole nelle giornate estive dove ci mette un po' in difficoltà in termini di lettura e leggibilità del display ma nel complesso è un display che va comunque promosso e che funziona molto molto bene se il display è un punto di forza, un punto un po' più nella media è quello delle fotocamere il Poco F5 non è sicuramente un camera phone ma riesce comunque con la ottica principale da 64 megapixel a scattare delle foto di discreta qualità con un buon livello di dettaglio, dei colori abbastanza ben bilanciati ed una presenza mai esagerata di rumore fa quindi delle foto perfette per fare lo scatto delle vacanze lo scatto dei figli o per fare una foto per i social tende però un po' a soffrire quando andiamo ad effettuare delle foto in condizioni di luminosità difficile o di notte in quel caso entra in gioco la modalità notte però comunque i risultati non sono eccellenti non sono paragonabili a quelli di prodotti della stessa fascia penso magari i pixel 6a o 7a ci sono poi altre due fotocamere la macro di supporto e l'ultra grande angolare che fa foto accettabili e poi c'è sulla parte frontale una fotocamera selfie da 16 megapixel sufficiente infine video 4k a 60 fps stabilizzati otticamente stabilizzazione ois su sensore che ci permette di avere dei video di buona qualità e soprattutto degli scatti sempre a fuoco parliamo dell'utilizzo quotidiano che poi è una roba che ci interessa di più quando compriamo un telefono allora dentro questa scocca in plastica troviamo un processore snapdragon 7 plus gen 2 8 12 gigabyte di ram e 256 gigabyte di memoria interna l'hardware nonostante sia di fascia media riesce ad offrire davvero delle prestazioni solide e convincenti in ogni ambito di utilizzo riesce a performare bene praticamente con tutte le applicazioni nell'utilizzo quotidiano si comporta in maniera davvero egregia le app si aprono velocemente sono sempre fluidi sempre scorrevoli si riesce a godere tranquillamente una sessione di gaming anche con giochi pesanti si riesce ad utilizzare per il foto e il video di editing possiamo anche vederci delle serie tv e di film in streaming funziona tutto quanto bene e oltretutto questo processore non è particolarmente esoso in termini energetici e questo ci consente anche di non avere mai problemi di surriscaldamento io lo sto utilizzando adesso a metà luglio fa un caldo bestia e comunque non ho mai avuto problemi di surriscaldamento del telefono quindi nell'utilizzo quotidiano si comporta davvero bene poi è anche completa la connettività due sim, 5G, wifi 6, bluetooth 5.1, NFC cioè per le cuffie non gli manca davvero niente la ricezione è buona il segnale audio in chiamata è buono quindi ne sono rimasto assolutamente soddisfatto per quanto riguarda l'utilizzabilità quotidiana piccola nota negativa la MIUI 14 con personalizzazione poco basata su Android 13 funziona in maniera egregia però ha un sacco di bloatware quindi quelle app preinstallate che trovate alla prima accensione che sono sempre removibili, disinstallabili però insomma da sempre è fastidio trovarle siamo quasi alla fine parliamo di autonomia il Poco F5 ha al suo interno una batteria da 5000 mAh che mi ha portato in questo mese di utilizzo sempre a fine giornata senza particolari problemi se arrivano a coprire 6 o 7 ore di schermo dipende anche un po' dall'utilizzo che ne fate ma è un telefono che non ha mai problemi a completare la sua giornata a stress se avete un utilizzo un po' più blando potete anche pensare di ricaricarlo ogni due giorni e poi la ricarica grazie al caricabatterie in confezione da 67 watt si completa da 0 a 100 in 55 minuti quindi dato batteria niente da ridire dove acquistarlo e quanto costa? il Poco F5 è arrivato sul mercato a 429 euro lo stavo in questi giorni guardando un po' l'andamento del prezzo ed è facile trovarlo scontato anche su Amazon vi lascio qui sotto a proposito il link in descrizione per l'acquisto a 380, 390, 399 euro in ogni caso 429 euro era già un ottimo prezzo se lo trovate scontato magari attorno ai 380, 390 diventa un best buy da comprare ad occhi chiusi e quindi insomma ragazzi è ora di tirare qualche conclusione perché se no vado un po' troppo lungo Poco F5 è uno smartphone ben costruito capace di offrire ottime prestazioni ha un buon display un buon hardware capace di performare bene in ogni ambito di utilizzo ed ha anche una buona batteria che ci permette di arrivare a sera senza nessun problema ecco l'unico difetto l'unico punto debole di tutto questo bel telefono è la fotocamera che magari non è ai livelli di determinati concorrenti soprattutto la serie Pixel ma che comunque riesce a fare delle foto più che buone andando quindi a concludere il Poco F5 è potente e perfettamente funzionale per ogni tipologia di utilizzo mi piace definirlo come un telefono concreto è ben bilanciato e soprattutto è venduto al giusto prezzo spero che la recensione vi sia piaciuta se è così non dimenticate un bel mi piace qui sotto e una super mega iscrizione al nostro canale che è la migliore forma di ringraziamento che possiate darci qui sotto in descrizione trovate naturalmente il link per l'acquisto su Amazon del prodotto la recensione testuale completa con tutte le foto che potete vedere in altra risoluzione per capire effettivamente se scatta bene o male e poi tutti i link ai nostri canali social se volete seguirci da Vittorio Tiso grazie e alla prossima grazie a tutti